E c'è un'ultima ora di cui vi diamo conto. I carabinieri di Bologna, la pulizia spagnola, hanno arrestato a Madrid il latitante di Andrangheta, Domenico Paviglianiti, sessantenne, boss dei boss, come era chiamato negli anni 80, negli anni 90. L'uomo dal carcere era stato rimesso in libertà ad ottobre 2019 sulla base di un erroneo calcolo della pena. Aveva poi lasciato l'Italia e si era rifugiato in Spagna.